Buon salve sera notte e giorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft dove sta per crashare, già me lo immagino e dove, come vi ho promesso, andremo nel Nater, no, Niter, no vabbè, non mi ricordo come si chiama, uè cos'è questo suo tio? Allora, prima dormiamo, vi faccio vedere un bel trucchetto poi vi dico cosa faremo già nel prossimo episodio Ah, se riesco a dormire, grazie è stato veramente grande allora, dunque, andiamo nel Neter dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pezzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ok ok Pampete Cobis a millennio eh, la filo... la... eh, io che la chiamo sempre filosofa allora ah, che pirla allora 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 dunque, facciamo Pampete, 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 Pampete e... la... la sniffi, sniffi e facciamo così no? allora, 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 allora no no no, non mi dite che ne abbiamo più ferro ma togno con dattino ah, è vero perchè vi devo far vedere la nuovità le new dai, un pezzettino di me... eh, di ferro scusatemi intanto mi vengono questi tic eh, chi te lo chi allora dunque, Tankete e Tankete Flint and Steel però prima mi sono scoperto una cosa vabbè comunque iniziamo a farlo il portale allora dunque, anzi, no WG, voglio fare prima questa cosa voglio fare le Boots è vero che abbiamo questa armatura però a me piacciono più queste Boots le Long Fall Boots anzi, le Long Fall Boots dunque, Iron, Asbuffo e Obsidian allora, dobbiamo fare dunque, uno, due uno, due uno, due e uno, due con la Filosofa diventa così poi andiamo con la Filosofa che non è Filosofa vabbè un due un due e... ah e... mh cosa cavolo? ah, ok, ok, ok quali per fare le armature eh, le armature mo? vabbè, so io beh ah, è vero che pirletta che sono e facciamo una scarpa eh, lo so pam pam e le Long Fall Boots boot allora intanto, primo errore così non si fa secondo errore è questo allora, queste non si consumano e... posso buttarmi da qualsiasi altezza non mi farò scusatemi che è successo a quella nooo mi si è buggeita orca loggia ah, ok orca loggia orca vacca guardate qui come sono aumentati gli windmill e dunque infatti fanno un po' più di corrende allora la curende è arrivata la curende e... non basta allora io direi intanto andiamo a posizionare il portale così tanto si quasi carica non la voglio tutta carichissima guardate oh cacchio pam pete non mi sono fatto niente avete visto? poi dobbiamo ora vi devo far vedere cosa facciamo nel prossimo episodio una bella cosa molto figia allora poi eh... ok qua e qua e poi saliamo uno due uno due tante 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 pam pete ecco proprio quello che non dovevo fare stati mo' a spaccarla ecco 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 l'ho fatto simmetrico come è c'è inizio ci metterò una ora praticamente a spaccarla ok vi taglio il video e continuo quando ho spaccato ecco ecco Ragazzi, ho finalmente, sono riuscita a, diciamo, a, non mi vengono le parole, a spaccare quella dannata accusa, e a filosofare, papete, 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 voglio vedere, no eh, no eh, però voglio vedere, se io faccio, Così, che cavolo, ospetta, così, crafting e faccio, one, two, three, four, eh, una, minima, ah, ok, ah, eh, che pirla, Oh, perché sono così pirla, dita, ah, scrivetelo nei commenti, che sono pirla, va bene? Grazie. Ora, se riusciamo a spaccare questa accusa, è veloce, ma ancora riappare. Ragazzi, sono già arrivati i pezzi, me lo devono soltanto venire a montare, quindi, breve, non lo so, anzi, iniziate a dirmi nei commenti, se volete che, diciamo, che continui questa serie, nel senso, quando arrivi nei pezzi, volete che faccia direttamente la feedpest? Volete che, che continui questa serie, se è bugato, o, che ne so, oppure volete che le mando tutte e due insieme, non lo so, cioè che faccia sia la feedpest che, vabbè, decidete, per me è tutto va bene, Allora, io la feedpest che mi occupo questa situazione è tutta, è molto 93, ma il rapporto è molto, Por personale, adesso mi���go, iniziere a farlo girare con questo concreto, e questa è già venuta come stiamo conquiando, nella linea di ore, e, po'rellata, non vediamo un ancora nuovo. Oh, cacchio... si fa gritta eh allora io ho paura di andare dentro dentro no perchè devo caricare l'almatura allora ci rivediamo tra poco vado a caricare l'almatura e ci vedemma insomma a tra poco e chi mi chi ragazzi allora ho fatto caricare guardate guardate come sono figo oh yeah ok siamo pronti per morire per andare nel dettere vabbè basta allora io direi facciamo una bella cosa allora c dunque facciamo facciamo ok facciamo ok allora dunque 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 facciamo un bella una bella spadozza di ferro e questa parte la devo togliere no scherzo allora devo togliere devo fare così sì vabbè perché sono in c ah sì ragazzi sono andata a fare delle prove perchè ho in mente una bella cosa per nell'altro mondo intanto che si caricava cioè intanto che vabbè dall'altro computer però me lo ridevo allo stesso non capito perchè dall'altro schermo intendevo avevo aperto due minecraft ecco questo è tutto perchè vi svelo cosa faremo la prossima volta faremo oltre al jetpack il bellissimo tatatatam 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 la sem la scarta assembler per fare la 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 che con il tritup così vabbè oh crash ed obsidian ah eccola allora guardate il cargo manager questo fa tutto parte il cargo distributore voglio farmi voglio farmi una farm con questa qui con le carte diciamo allora diciamo sfruttando questi qua ora aspettate che se riesco ve li faccio vedere sfruttando 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 fighi questi poi voglio farmi anche una bella portalgam voglio farmi dunque sfruttando aspettate che se riesca a trovare la pagina questi stiamo vicini 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 lontani orca orca vacca che le fa la cacca comunque non lo trovo in pratica quel coso i tools quindi solar engine questi qua perché voglio farmi una farm di alberi con la stilfe card tipo fertilizzer questi qua vedete con quelli laringine insomma non riesco a trovare il carrello ho hol hot 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 no hot cold vabbè comunque siamo passati da un cacchio all'altro allora come alzò dunque ho fatto una bella spadozza e dunque voglio farmi delle chest tankate 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 perché allora siccome c'è un lag incredibile anzi facciamo così ragazzi per non diciamo per non perdere il profilo nel caso di un lag quindi è io entro nel netter e poi inizio a registrare dal netter ok appena entro nel netter infatti vedete mi insospettisce quella cosa che c'è in blu perciò e che cacchio minecraft vanille pochissimo sviluppato ok guardate faccio così tutto l'inventario mi porto la spada e e e e e e e piccone e basta credo che basta ah è l'accendino cavolo mi potevo craftare un arco vabbè allora ragazzi stop e vado nel netter e che c'è chi ragazzi nel netter c'era una pecorella mi è scomparsa la pecorella e non so dove sono sbaonato oh mattone non mi era accorto di sta cosa si glowstone al primo colpo cosa buona e giusta allora ragazzi raccolgo la glowstone perché lagga tantissimo nel netter e ci vediamo a casa eccomi qua ragazzi eeeh allora ho recuperato la roba sono andato allora cioè io non vi dico dove sono spawnato praticamente è un luogo chiusissimo cioè non mi è mai capitato di spawnare in una cosa del genere è un luogo completamente chiuso cioè con 40 pezzi soltanto di glowstone ora voglio vedere se riusciamo a fare la glowstone infinita dunque se io con questo faccio questo è giusto no 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 ah nel pulverizer 4 nel 3 4 ah ok vediamo questa cosa qua rock cross ok mi stiamo facendo rock rock cross o scusatemi ragazzi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah vabbè non è un problema con il jungle Tancate 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 E Possiamo fare così Ok Ok Allora uno due tre quattro Oh ma allora sei scemo Sì eh Ma sei scemo forte sì Ma vaffandito io Io che ho messo tanti Ma vaffan No vabbè ragazzi Fatemi vedere vabbè è compatibile lo stesso In realtà sono io che ero pirla Oppure comunque non era compatibile No era compatibile Calma Allora Uno due Dunque Ah questo ce l'abbiamo Questo ce l'abbiamo Ci manca da fare questo Glouston Redstone Ah con un coso normale però Ah Quindi dobbiamo Cuocere più cosi qua Veloce Dimmi che ho macerato un po' di cose Ma viene grande macerino mio No è vero Coglio tutte le energie Per far caricare più velocemente Orca l'acqua Ci bierin che fa la cacca Dur 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 Veloce, veloce, veloce Copper, 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 copper Dove stai, copper? Copper Copper Dove sto andando? Ma porca truta Veloce, veloce, veloce Copper, 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 copper Dai Vir, che qua non c'è la curende Porca l'ho già Ah, dai, dai, dai Dimmi che ce la fa con la corrente che ha Oh Vediamo che fa qua Vediamo qualcos'altro, allora Dunque Ma io ce li ho i copper Ma l'affanghiul Sì Ok, allora Facciamo un'elettronic circuit Poi l'elettronic circuit Come cavolo era che si faceva Madonna mia Mi sto incazzendo Mi sto incazzendo Non a contrarci C'è giusto quella che è un duoto Vabbè Allora, così E, 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 qua Le due Grandissime Allora Dai, dove stiamo E, allora Dunque Qua Qua Dimmi che ci arrivi fino là Che cacchio me ne faccio di questi Io voglio quelli lì Grande Giusti, giusti Giusti, giusti Una cosa incredibile Mai successa Ragazzi Nella storia di Minecraft Vai Che altro ci manca Io non le due grusse Mi ero spaventito Oh, giusti, giusti Electric Jetpack Ecco Ecco Pure not Ah, però 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 Possiamo fare così Eh, sì Vatti a beccare le cose 4.000 Incredibile Come si carica velocemente Uè Lasciamo caricare Intanto Devo dormire Per la dimostrazione Quanto cacchio Madonna Ma perché Caricò sempre Il video a lui Cioè Io dico Mi metto il timer Dico Sì Vabbè Tanto ora Finisco Quindi non c'è bisogno Del Del timer Perché tanto Ora finisco Ora finisco Ora finisco Alla fine Non finisco mai E quindi Per io Fa la cacca dura Eh Vabbè Povero Piedi No perché Sapete qual è il guaio E non è tanto caricare Perché la connessione È velocissima Il problema È Vabbè Intanto ora Lo mettiamo Il problema È che io Li edito Con Perché metto Cioè metto La traccia audio La devo convertire Il problema Il problema è che Il video Per metterlo Per congiungere la traccia audio E per renderizzarlo Ci vuole un gasino Ragazzi guardate E Voila Abbiamo le scarpe Che non ci facevano niente Quindi non abbiamo Problemi E poi E poi Per chi Ne aveva le scarpe Si può fare questa cosa Ah perché Guardate Io provo A tornermi le scarpe Così Guardate Subisco danno Ovviamente poco Perché ora La natura In questo caso Più è saltato anche poco Invece così Non subisco danno In nessun caso Soltanto che Chi non si vuole Non ha materiale Per farsi le scarpe Cioè questa Con Spazio più M Si vola Più Più piano Ma Si cade Anche leggermente Più piano Infatti Se io mi dovessi Togliere questi Guardate Non mi fa rimare Oppure Comunque Anche Con questo Diciamo Dovete essere bravi A manovrarlo Ciò che non so fare io Cioè che Quando state per cadere Toccate di nuovo Spazio E diciamo Cerca di ammortizzare Il colpo Guardate Ecco Si proprio come io Non faccio Infatti mi faccio Ma Comunque Va bene Dove stanno le scarpe Le scarpe fantastiche Ok Da bacunire tutta Vediamo l'MFE Come sta Ma perché spende Così tonta La corrente Che si sta caricando Qua Uè Non facciamo sporcizia Uè Non si sta caricando Ora E poi 35 63 Perché si sta caricando Su Poi devo fare La piccola cosa Non mi fa Tanto tempo E poi Non mi fa e facciamo così allora così ragazzi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.